TypeScript, corso, iniziamo. Saltiamo subito la parte di benvenuto, di eccoci nel corso e iniziamo subito. Cercherò di essere il meno teorico, diciamo, a livello introduttivo possibile, ma comunque non fare un cappello introduttivo a che cosa sia TypeScript e a che cosa serva è veramente impossibile. Partiamo però dalla prima domanda, che è effettivamente che cosa sia TypeScript. TypeScript, diciamo che per definizioni si utilizzano due definizioni principali, che sono Static Typechecker e JavaScript Superset, che di per sé sembra non vogliono dire nulla, ma è più semplice dire che cose effettivamente non vogliono dire, perché TypeScript non è un linguaggio nuovo e non si tratta di reinventare in nessun modo JavaScript. Non aspettate di trovare alcuna nuova feature all'interno di TypeScript rispetto a JavaScript. Non aggiunge assolutamente nulla. Ok, sì, è un super set, ma cosa vuol dire? Sicuramente non vuol dire che otteniamo qualcosa in più, come stavamo dicendo. Anzi, non otteniamo proprio nulla. Non ci sono più callback, non c'è nessuna features nuova, non c'è nessun strumento aggiuntivo rispetto a JavaScript, non c'è nessun modo nuovo di scrivere le funzioni, non c'è niente di niente di nuovo. Si può tutto riassumere con quello che è una parola chiave, l'unica forza parola chiave che davvero serve in TypeScript, ed è Type Safety. Andremo subito a vedere un esempio pratico cosa vuol dire Type Safety. Diciamo che il goal principale di quello che è TypeScript è di andare a rendere il nostro codice meno prono ad errore, quindi andare ad evitare, prima che il codice venga compilato, il fatto di ottenere degli errori. Questo perché io scriverò in TypeScript, ma poi tutto quanto verrà compilato direttamente in JavaScript. E questo cosa vuol dire? Semplicemente quando io lavoro in JavaScript io posso scrivere esattamente quello che voglio, ma l'errore si noterà solo durante la compilazione del codice, quindi io scrivo quello che voglio e poi l'errore me lo trovo poi in console. Nel caso magari di un'app, la mia app crasha nel momento in cui l'errore viene generato. E questo cosa vuol dire? Beh, che io in JavaScript quando lavoro e scrivo codice posso veramente scrivere il peggio codice, ma poi l'errore effettivamente risulterà solo una volta che il codice viene effettivamente compilato. Quindi scriverò la mia boiata, una volta che l'utente utilizzerà la mia app, il mio sito, quello che io voglio, che ho scritto in JavaScript, solo il momento in cui l'errore effettivamente si verificherà otterrò o l'errore in console o nel peggio di casi la mia app si spaccherà direttamente in pronto. Quindi non c'è un modo in cui io con JavaScript posso accorgermi che c'è un errore prima di compilare il codice. Ecco, quello che va a risolvere TypeScript è proprio l'andare a controllare che non vi siano errori prima di andare ad eseguire il codice. E questo ci porterà a scrivere codice molto più pulito, più performante, soprattutto più sicuro. Ma andiamo a fare un esempio pratico. Molto banalmente ci sposteremo in questa incredibile tab, ci apriamo la nostra pazzesca console. Ok, io mi porto di qua. La nostra pazzesca console e cosa vuol dire Type Safety, ad esempio? Beh, che io non dovrei, cioè in realtà in JavaScript posso farlo, però io non dovrei poter fare questo tipo di operazioni perché sicuramente portano a un errore. Io non ho la certezza del tipo di dato con cui sto lavorando, quindi se ci fosse un errore io mi accorgerò di questo errore solo una volta che il codice viene compilato e 2 più 2 fa 22, che è una cosa che non deve poter succedere. Io voglio andare a svolgere le operazioni matematiche solo quando questi elementi sono due numeri, oppure voglio andare a concatenare due string solo quando questi due elementi sono delle stringhe. Voglio avere il controllo su di questo. Un'altra cosa che non voglio che succeda magari è che ad esempio 2 più null, in questo caso farà 2, ma se ad esempio il valore a cui volessi sommare non arrivasse come null ma arrivasse come undefine, più undefined, va a fare none e questo ovviamente spaccherebbe completamente ogni mia applicazione quando si verificasse. Ecco, io in JavaScript non ho nessun modo per andare a prevedere scrivendo il codice che vada a verificarsi questa situazione, che effettivamente vanno tutte quante gestite, ma in JavaScript se io non mi ricordo, non ci penso, non ci faccio caso, automaticamente, se andasse a scrivere ad esempio A più B, non c'è niente che mi impedisce di andare a eseguire questo e si potrà verificare uno di questi casi a prescindere da che io vada a gestirlo oppure no. E il compito di TypeScript è proprio questo, quindi aiutarci a fare tutti i controlli necessari per far sì che noi otteniamo realisticamente l'operazione che desideriamo o comunque ricordarci di andare a fare tutti i controlli, ma lo vedremo nel dettaglio nelle prossime lezioni.